Andiamo avanti col prossimo match di Muay Thai 67 kg All'angolo rosso Team di Bisceglia Colucci di Cerignola Maestri di Bisceglia Colucci Lui è Angelo Volpe Lui è Angelo Volpe E all'angolo blu L'ospedante per il Team Colate Francia Allenato dal maestro Moussa Colate Un bel applauso per Jeremy Monteiro Lui è Angelo Ehiro! 5 riprese da 3 minuti 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 5 riprese da 3 min 5 riprese da 3 minuti Sì, sì, sì. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.